Oggi metteremo alla prova il nuovo Shimano Aerospin 4000 FA, un mulinello con una bobina oversize con un corpo di ridotte dimensioni. Il mulinello ha un rapporto di recupero 4.8, tre cuscinetti a sfera, meccanismi X-Ship che consentono un recupero fluido e una massima potenza, AeroWrap per un imbobinamento preciso del filo. Il mulinello viene distribuito con un kit spessori per adeguare la capacità della bobina a seconda del diametro del filo che viene usato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.